L'ideologia è fatta di illuminazione, propaganda e cultura. È fatta di illuminazione, di propaganda e di cultura. E questa è la struttura dell'ideologia. Non abbiamo detto che sia il funzionamento, non abbiamo detto che sia l'origine, che sono cose diverse. Questa è la struttura. È una struttura che ha a che fare con la dialettica tra soggettività e oggettività. Forse of clearing significa che tu hai una soggettività che indaga, critica. C'è un punto di vista e getta luce sull'ombra per rischiarare il mondo. Dall'altra hai, al tempo stesso, non in tempi diversi, al tempo stesso hai la oggettività. Cioè hai la costruzione di un mondo non più critico, né criticabile. Cioè hai un progetto. E dunque hai una funzione mobilitante, destrutturante e, al tempo stesso, una funzione oggettività. L'obiettivo è costruire una cultura, cioè, diciamo, una bolla dentro la quale ci si muove. Per voi, soggettività, oggettività, bolla. Diretti, ma questo è roba da nazisti. No, i nazisti sono i contenuti. Non vi è ideologia che non funziona in questo mondo. La cosa più importante è che c'è una luce che illumina. Senza questo non comincia il discorso ideologico. E questa luce è un cono che ha un'origine non illuminata, ovviamente. Cioè il punto di vista è un punto di vista a partire dal quale tu guardi avanti. Ma nessuna ideologia è in grado di guardare se stessa. Quando un complesso di pensiero guarda se stessa non è ideologia, è filosofia. Non perché la filosofia sia libera da condizionamenti, ma perché li conosce. Mentre l'ideologia non ne vuol sapere. Anzi, l'ideologia è un soggetto incondizionato. L'ideologia è al tempo stesso illuminante, accecata su se stessa. E poi se la luce è troppo forte è pure accecante. Nega il mondo com'è, afferma una verità che al momento non c'è. E adesso vediamo perché. Perché anche questo è un altro elemento strutturale fondamentale. Chi ha reso indispensabile? Perché è indispensabile l'ideologia? E chi l'ha resa indispensabile? Secondo l'ideologia, non secondo me. Secondo l'ideologia, l'ideologia è l'atto illuminante indispensabile perché qualcuno o qualche cosa, una struttura, ha reso il mondo opaco. L'atto dell'illuminare è reso necessario da un precedente atto di oscuramento. E chi ha oscurato o che cosa ha oscurato? Beh, ne parliamo. Le ideologie sono diverse su questo. Ma certamente in tutte c'è l'idea del nemico. Quello che ha fatto la magia nera, che ha oscurato, che ha lanciato il nero di seppia sul mondo, quello è il nemico. Può essere... Nel caso di Goebbels è inutile che gli stia a dire che cosa pensavano questi, ma in realtà ogni ideologia ha la capacità di individuare un evento, una struttura, un processo, una classe, qualcosa contro cui. Per cui cominciamo a vedere che dentro l'ideologia c'è un bel mucchio di cose, c'è la soggettività, l'oggettività, l'inimicizia e naturalmente la coltour, cioè l'amicizia. Noi siamo tutti quanti dentro la stessa bolla, dopo che la propaganda ha fatto il suo effetto, siamo tutti certi e produciamo sapere tutto interno, a un determinato modello, il che ci affratella, ci misce. Cioè abbiamo il mainstream. Dunque abbiamo la critica, la propaganda e il mainstream. Nella prima fase molto violenta, devi criticare e al tempo stesso devi contrapporre a ciò che hai criticato qualche cosa di contrario, ostile adesso. Devi contrapporre. In quel momento sei soggettivo e oggettivo, sei una parte, sei una parte che sta scoprendo di poter essere tutto e lo proclama ad alta voce, la propaganda. Poi, quando la lotta si è conclusa vittoriosamente, dentro quel tutto si produce un discorso. potrebbe non avere più nemici, tranne che sarebbe bene essere sempre in guardia e andare a cercare se davvero i nemici sono stati eliminati del tutto, se per il caso qualcuno coltiva in cuor suo cattivi pensieri. Comunque, il meccanismo è soggettività, propaganda, logos, illuminazione soggettiva dal punto di vista, oggettività nuova, scoperta dell'oggettività. Non l'avevo mai vista questa cosa, ma guarda, non me ne ero mai accorto. La luce che emana dall'ideologia mi cambia il mondo. E poi parte il logos, siamo tutti felici, sempre però con qualcuno che deve custodire. Allora, se siete stati attenti e se sono stato chiaro, vi ho detto qualche cosa che ha a che fare con l'ideologia e con Goebbels, ma ha anche a che fare con la caverna di Platone. Ecco la difficoltà di parlare di ideologia. Che non sai mai di che cosa stai parlando. Perché quello che avevo detto, punto di vista soggettivo che illumina, critica, propaganda oggettiva, vi faccio vedere un mondo nuovo, costruzione di un logos all'interno di questo mondo nuovo, questa roba qui la fanno anche i filosofi. Non c'è bisogno di essere Goebbels. Però io non sostengo che Platone e Goebbels sono uguali, non sono mica Karl Popper. Altrimenti si dice, si fa la mossa tipica di chi non ne vuole più sapere, che dice, io ho una dottrina, tu hai l'ideologia. Io dico la verità, tu sei un mentitore. O, come diceva Raymond Aron, ideologia sono le idee dei miei avversari. La cosa che dovete assolutamente assorbire è che dentro l'ideologia c'è tanto l'azione quanto la coazione. Questa azione, questa azione, questa parola, anzi, questo pensiero che non può fare a meno di essere polemico, questo pensiero di parte che vuole essere tutto, questo pensiero che ha dentro di sé come obiettivo la costruzione di un mondo che non lo smentisce, questo pensiero che sembra la grande produzione della soggettività, cioè la grande azione, in realtà è una coazione, esso stesso è tutta una coazione questa. Noi siamo stati messi al mondo, noi occidentali, per ragionare in questo modo. Non possiamo non ragionare in questo modo. Noi, quando siamo dentro l'ideologia, siamo a contatto con la fondamentale coazione del modo d'essere dell'Occidente, cioè noi stiamo facendo metafisica, anzi, la metafisica sta facendo noi per la precisione. Cioè siamo dentro un movimento da cui non ci possiamo liberare. Come vi dicevo, l'unico modo per liberarsene, l'unico modo per liberarsene è dire, semplicemente, non è vero. Io sono fuori da questo movimento, io ho il punto di vista oggettivo, dentro l'ideologia ci sarai tu. La lotta per l'ideologia è un continuo rimbalzarsi da una forma di pensiero all'altra dell'accusa di ideologia. C'è da rimanere stupefatti, cioè sono come dei bambini che si fanno i dispetti gli uni con gli altri. La coazione è quella. La coazione è che nessuno può uscire dal meccanismo di illuminazione soggettiva, demonizzazione dell'avversario, costruzione, attraverso la propaganda, dell'universo finalmente pacificato. Non sto dicendo che la filosofia finora ha pensato il mondo è ora di cominciare a cambiarlo, perché questa è una cosa che è stata detta, ma l'aveva detta prima Hegel e l'aveva detta chiunque abbia mai fatto il filosofo ha fatto il filosofo per pensare il mondo sapendo che mentre lo pensava o lo cambiava o preparava gli strumenti per cambiare. No, per uscire dall'ideologia non si può dire altro che smetto di parlare, smetto di pensare e agisco. Questo è, attenzione, agisco non per applicare un'idea, non per illuminare il mondo, agisco per l'azione, agisco come pura, perfetta, immanenza, irriflessa, immediatezza. E' un prezzo molto alto. E' un prezzo molto alto. E' praticamente impossibile, destrutturante ogni forma di ordine e di social. Altrimenti ci dobbiamo tenere l'ideologia. e soprattutto a questo punto la grande fatica è, e qui anticipo moltissimo quello che poi dirò, la grande fatica è convincere anche quelli che dicono che loro non ce l'hanno in geologia ma che sono oggettivi, che non è vero. non perché noi siamo più bravi, migliori, più acuti, non è vero perché è impossibile. Andare a spiegare al mainstream che è ideologia anche la sua non è né semplice né indolore per chi ci trova. quando si esce su un giornale, si vede sul giornale principale italiano, Putin, l'ultima ideologia, insomma, è un problema perché nel momento in cui lo dici, nel momento in cui lo dici stai facendo ideologia. Per carità, è obbligatorio, sei coatto a questo. ma se la sua è l'ultima ideologia, la tua che cosa è? Quando è ideologia anche dire che il 2 più 2 fa 4, dato che esistono infinite possibilità di matematica alternativa. Quando il ministro degli esteri, il segretario degli Stati degli Stati Uniti, dice i cinesi si rifiutano ai nostri valori universali, è veramente il canto dell'assurdo. Si rifiutano ai valori nostri universali? Questa è un'esplosione di ideologia. Dentro l'ideologia c'è la guerra, cioè c'è il nemico, tra la soggettività e l'oggettività. L'oggettività data, che va smontata da una soggettività, un'oggettività nuova che va creata. Dunque c'è, ripeto, azione e coazione, critica e chiusura. La sostanza storica reale di un'ideologia è, contiene questo scheletro, assolutamente sì, ma ci mette intorno alla polpa senza la quale l'ideologia non funziona, è morta. E questa polpa sono le passioni e gli interessi. Perché no? Non si può fare ideologia dicendo le cose che vi ho appena detto. Si fa ideologia non dicendole, facendole, e soprattutto mettendoci dentro vita. mettendoci dentro una proiezione all'azione che non viene dal ragionamento, una proiezione all'azione che viene da paure, speranze, passioni, potenze, il che rende l'ideologia qualche cosa di solida. Non lo schema che vi ho fatto, ma ne fa un soggetto storico-politico lei. Oltretutto, capiamoci, lo vedremo meglio, l'ideologia non ha nessun interesse a dire le cose che ho detto, cioè non riflette su se stessi. è, io credo, quello che vi ho detto, ma non lo dirà mai, perché non è interessata. L'ideologia vuole funzionare, non vuole pensare se stessi. L'ideologia è pensiero che nasce sporco, che nasce con la volontà di agire, non di pensare. e insomma è in un punto, è in uno spazio intermedio fra la filosofia intesa come qualche cosa che all'ideologia assomiglia molto, ma è, ma si sforza di essere consapevole, critica e consapevole e lo slogan, cioè la battuta. È un pensiero, è un pensiero che è pensato solo una volta da qualcuno e poi viene iterato, viene applicato, viene adoperato come chiave interpretativa e produce effetti a volte di reale penetrazione nella realtà, a volte comici ovviamente quando è un'applicazione di un teorema che palesemente non spiega più niente e allora a quel punto qualcuno da dentro l'ideologia dice beh, proviamo a cambiare qualche cosa dell'ideologia per tentare di catturare qualche elemento empirico in più e a quel punto si scatenano le guerre ideologiche, le guerre fratricide di scomuniche reciproche al grido di eretico traditore questo perché l'ideologia non sopporterebbe molto il mutamento vorrebbe spiegarlo non esserne spiegata vorrebbe intercettare una qualche legge o verità della storia e della politica utilizzarla l'ideologia essenzialmente strumentale pensiero strumentale utilizzarla per agire politicamente ma non starli continuamente a ripensare a ripensare no abbiamo già pensato tant'è vero che quando il marxismo che è stata la più vitale di questa ideologia e che aveva l'idea che l'idea dialettica che il pensiero non può ossificarsi e bisogna ripensare e continuare o si bloccava e generava dei mostri come il diamant o finiva a creare continue resi tutte le volte che cercava di muovere se stesso per inseguire spiegare il movimento della prassi qualcuno gli poteva dire stai dicendo una cosa che Marx non ha detto il cosiddetto marxismo occidentale rispetto al marxismo sovietico l'ideologia si trova bene quando spiega una volta per tutte dunque non esistono ebrei buoni non neghiamo a priori dobbiamo avere una risposta chiara immediata incontrovertibile come non esistono capitalisti buoni come non esistono protestanti buoni se ci mettiamo a pensare troppo diventiamo ciò che l'ideologo odia cioè il filosofo non 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 non